L'amministrazione di Baveno spedisce al mittente la richiesta di annullamento dell'ultimo consiglio comunale. I gruppi di minoranza avevano disertato l'assemblea dello scorso 28 settembre considerando errate le modalità di convocazione. A quel punto i capi gruppo Marco Marchioni di Obiettivo Comune e Camilla Cordero di Baveno Futura avevano spedito al sindaco Maria Rosa Gnocchi un'istanza ufficiale di annullamento. Motivo del contendere la tipologia del consiglio. Per le minoranze si trattava di una seduta ordinaria dovendo essere approvato il documento unico di programmazione mentre per l'amministrazione di una seduta straordinaria. Non dovevamo trattare né linee programmatiche di mandato né bilanci di previsione né tantomeno rendiconti di gestione spiega Gnocchi. Il DUP non è nulla di tutto questo quindi la sessione era straordinaria e il consiglio poteva essere convocato anche con tre giorni d'anticipo e non con cinque come invece deve accadere nel caso di seduta ordinaria. Nel corso delle ultime settimane attraverso il segretario comunale l'amministrazione ha verificato il regolamento e ribadito la propria posizione. Non ci sono i presupposti per annullare quanto abbiamo approvato nel corso dell'assemblea sottolinea il primo cittadino. Tra l'altro i consigli comunali per essere annullati non devono avere ricadute sul pubblico. In questo caso ci sarebbero invece dei problemi visto che verrebbe annullata la modifica della convenzione approvata tra comune Baveno Calcio. E poi Gnocchi aggiunge il DUP è stato inviato regolarmente a tutti i consiglieri entro il 31 luglio quindi se le minoranze avevano da fare delle osservazioni avevano tutto il tempo. Rispetto a questo punto arriva la risposta di Marco Marchioni. È vero che abbiamo ricevuto il documento nei termini ma l'amministrazione ha voluto escluderci dalla discussione politica portando a termine un consiglio in cui le minoranze hanno deciso di non partecipare. Non ci arrendiamo. Adesso io e Cordero solleciteremo il prefetto al fine di analizzare la correttezza del comportamento del sindaco. Poi se il sindaco non dovesse rivedere la propria posizione valuteremo un ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica. E concludendo il proprio ragionamento Marchioni dice ma se il bilancio deve essere approvato in un consiglio comunale ordinario solo dopo aver dato l'ok al DUP mi sembra chiaro che anche quest'ultimo deve essere discusso in un consiglio ordinario.